rieccoci piccolo problema temporaneo allora dicevo non è che con quella forchetta possiamo riparare la tela mmm forch mi nome è Lorraine Lorraine mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede i've been waiting to hear those magic words all my life spaceweaver hello and thank you for considering wow ma star chart dove la troviamo però dove la troviamo una star chart qua dentro ragazzi ma 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 ok qua di sicuro non c'è possiamo provare a vedere di qua tipo questo no non ci serve a nulla wow hey this window is clear now I wonder ah hey it's the non maiden it's Bella my name is Bella oh yes she's from my town the one that spray me with water what she doing out there ma quella non ci arriva la finestra ah 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 I'm going to get you out of there how this monster is made of metal I'm working on it are the other maidens in there oh yeah Drusilla's here and your other sugar bunting friends hey and some lovely girls from Meriloft with the most amazing featherwork it is nice what happened to you after you were taken that gross tentacle dropped us into some sort of tube and it just dumped us here Bella this monster is some sort of robot it's a spaceship or at least it pretends to be what long story tell you after magchatra the maiden's feast it was all a big scam oh you must be one of the maidens from obvious town ma why didn't you warn us she did now that I think about it we just weren't listening do you show mountain girls still have the hooks on your costumes yeah but don't tell me to pick the lock I've been trying for days can I have a hook but then how would we get food when the rats run past the door this hook is the only thing I can catch though now that she's been able to catch one yet they're too fast I'm gonna find a way to get you out of there okay hurry Bella so hungry or at least get you some food okay qua possiamo fare qualcosa maybe I can unlock the door by uh oh I better get out of here what's going on in here che cosa ha in mano it's like the door received some damage in the crash some exposed wires here probably set off that alarm better do some quick repairs that was close mmm I'm not going through that wolf creep will see me okay hey Mel hey Mel però adesso che sta riparando forse noi possiamo andare dall'altra parte passando dalla camera di Shay vediamo se ci riusciamo apparentemente si looks like some sort of video game there it's locked oh l'abbiamo chiuso dentro eeeh oh oh ah ma si aprivan così facilmente mmm cioè bastava forzarle per aprirle ma si muoverà sul serio in quella maniera l'astronave per aprirle decryption mechanizm initializing warp and wolf drive intake calipers in position weave thrusters at viscosity Speranza a rotazione. Speranza Nanskof in 5. 4, 3, 2, 1. Nanskof in 5. Speranza Nanskof in 5. 4, 3, 2, 1. Nanskof in 5. Nanskof in 5. Cavolo. Quindi dobbiamo modificarla di sotto in qualche modo. Però non sappiamo. Facciamo una prova. Nanskof in 5. 4, 3, 2, 1. Nanskof in 5. Nanskof in 5. 4, 3, 2, 1. Nanskof in 5. C'altra parte mi sa. Oh. Ok. 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 scrambled Khmer. selbst is the een 인�merism. aff expectations. Ok. boys the I didn't see anyone else but maybe they're together I hope so I just wish I could fly back and get them well let's just make sure that's part of our escape listen we have to stick together let's put the past behind us and team up to stop this horrible business you want to team up with the captain of the ship that's been terrorizing your homeland yes if you're willing to team up with a girl you just met who already lied to me once on accident my insomma deal hey want to hear how the plan is coming along okay I still need to make a bomb and I still need to find a way to get it off the ship and I still hadn't figured out a way to drive the ship out of here so I've got a lot of work to do as long as you have a plan I think I should save the star chart for that navigator robot I think I should save the star chart for that navigator robot c'era i quel robot spazzatura non non l'abbiamo più visto ragazzi c'è quel robot che puliva la la spazzatura non l'abbiamo più visto hmmm I don't want to distract it from its duties I'm not here to kill anything except for mob chat ma possiamo fare qualcosa no oh ma non è che possiamo usare l'altro teletrasporto adesso ah cavolo sbagliato questo lo possiamo ancora spostare non è che ci possiamo fermare il robottino che pulisce con quello ah sì ma vado subito a vedere si ci sono ma non non sembrano quelli delle delle mappe stellari quella al centro dorme sempre no adesso attiva questa è quella che ci portava nell'hangar dove c'era il fulcro energetico wow wow must have been trying to warn me about falling ship parts huh i wonder what that funny light show is for hmm ok allora questo è quello che ci serve per fare l'esplosione hmm ci serve qualcosa con cui raffreddarlo ah possiamo mettere il gelato dentro l'elmo possiamo provare con il gelato dentro l'elmo e vediamo un po' se è gelato se lo la se lo la 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 se lo raffredda vediamo eeeh congratulazioni paroz no hmm hmm hey hey you guys look like you got caught in some sort of ice cream avalanche no we're trying to cryogenically freeze ourselves some messed up junk has been going down around here and we'd rather just sleep through it oh i see mind if i have a look around knock yourself out just don't thaw us out until things settle down ok eh si ce l'ho messo i don't think a big bowl of room temperature rip cream will really help me if i wanted a bowl of this i'd want the fresh stuff up in that truck is this stuff for real andiamo un po' con loro aha perchè ci può andare la sopra wow ok ok now i'm cold don't forget that it's sticky perchè che cosa servono le scarpe abbiamo le scarpe per camminare sulle nuvole ok if nothing else they'll keep my feet warm in here if my friends and mariloff could see me now perfetto ottimo ragazzi ok ok anche questo è fatto adesso ci andiamo a prendere il nucleo oh oh that whipped cream sludge ate my cloud shoes sorry quindi adesso ci andiamo a prendere il nucleo e lo possiamo buttare mi sa che lo dobbiamo scaricare nel nei rifiuti il nucleo per far esplodere tutto il discorso è che ancora non sappiamo come modificare la la mappa stellare non 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 ma ma non 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 ma Strumento adatto Bene Sono contento, veri Allora Proviamo a buttarla di fuori Dobbiamo creare delle macerie Come le creiamo le macerie ragazzi Dobbiamo creare Della spazzatura Per Far arrivare il robottino Che strana curiosità, veri Come facciamo però? Che strana curiosità Forse possiamo riutilizzare il casco Perché sotto Non possiamo far nulla No, lei ha il coltello E prima aveva la forchetta Che abbiamo scoperto Che c'era C'era una Una tresca Tra il coltello La forchetta Il cucchiaio Vediamo se ci fa riutilizzare Il casco Apparentemente si Dobbiamo cercare Di creare Qualche danno Qualche danno Più che altro Ci serve Qua Come facciamo A far Arrivare Il robottino Delle Della pulizia Eh? Wee, lady Grazie dell'host Gentilissima Ah Giusto Non è una Cattiva idea Vediamo un po' No, lo butta fuori Ciao, mori Buonanotte Ho capito Ok Ok Dovrebbe funzionare Adesso Se noi andiamo là Dovremmo poter Prendere i cereali E poi li possiamo Buttare per terra Giusto Vi torna Ok Perfetto È la madre Di Shae Veri Ok Adesso 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 si dovrebbe Bloccare Perfetto Ah Cavolo Mi sa che dovevo Fare il giro Mi sa che dovevo Usare Devevo andare Nella stanza Del teletrasporto Ok Ho capito Dobbiamo fare La stessa cosa Ma devo andare Nella stanza Del teletrasporto Per anticiparlo Ok Però funziona Cioè il nostro Piano malvagissimo Funziona Ok Perfetto Quindi Di qua Sì Sì Perfetto E abbiamo guadagnato Ok Che ci facciamo con i cereali ragazzi? Che possiamo fare con i cereali? Giusto Viven, giusto Ottima osservazione Eccole Ma come l'ha chiuso? Uh, con l'uncino Ma Ma Ok Allora Con l'uncino Secondo me possiamo Lavorare sulla tela Il problema è che Cioè mettiamo coordinate a caso Perché non abbiamo trovato Delle coordinate da inserire Sprezzare Sprezzare Prvo jamo. Cioè, non ho delle coordinate, ragazzi, non so neanche dove trovarle. Hai... Un.. Nanso, Detroit. Tried thread engaged. C'è? We've ever... Will I know? Let's try that again. Hmm... Forse, ah, dici con lui? Eh, con lui ci rimaneva solo però da riparare il robottino. Il discorso è che non ho trovato nulla per riparare il robot. L'unica cosa che mi viene in mente è cercare di far riarrivare il cattivone, l'ex lupo, dalle... alla prigione delle ragazze. Però come lo togliamo? Forse con il coltello? No. Possiamo provare a spiarlo, forse? Per vedere se magari lui mette sul monitor qualche mappa stellare. È l'ultima ragazza. L'unica che downed il nostro volto. Cosa per lei? Cosa per lei è... Significante per lui, in qualche modo. L'unica che era disposte di riscare tutto per lei. Troppo. Cosa. Abbiamo trovato un spessimo che potrebbe... truare la formazione. Sì. Non credo che abbiamo bisogno dei altri spessimini. L'unica che tutti. All'unica che si tratta di riscaldare. E incinibare il materiale di scuola. Dopo che riparate il volto, Marakai. Mi piacerebbe che il Consiglio non sapevi capire come hai quasi raggiunto a perdere una Collectora in the Badlands. Sì, signore. Sobre la madre... Voi sapere le regole, Marakai. Lei è venuto in contatto con una primitiva non purificata. Chi ha capito quanti dolori che sta portando? Sì, Threshmaster. Io iniziare i ricordi e preparare la incinerazione. Corri, Marakai. C'è un pezzo nel mio sangue. Mmm... No, qua non c'è nulla da fare, ragazzi. Mmm... Dove la potremmo trovare una mappa? Perché a noi le mappe ce le dava lui. Servono forme? In che senso? Oh... C'è un'idea ancora? Non. Scusate. Tu hai già conosciuto a quel pezzo? Marakai? Sì. È un'attività del Consiglio di Laruna. E un miembro di Thresh. C'è un'attività del Consiglio di Laruna. 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 che non sappiamo dove rimediare. C'è... C'è un'attività del Consiglio di Laruna. C'è un'attività del Consiglio di Laruna. Ma... C'è ancora un'attività del Consiglio di Laruna. Quindi siamo molto vicini. Asi che hai un plan. Mmm... Questo è un'attività del Consiglio. Sì, mi aiuta a ricordare. Vogliamo provare... Tu dici di provare con lui. Vediamo se nell'astronave c'è qualcosa. Con lui ancora non siamo riusciti a riparare il robottino. Ah! Ah! Saranno queste. Saranno queste? Vogliamo provare? No, perché mi vuoi picchiare, Veri? Che ho fatto? No, sono diverse. Eh no, non penso... Sono diverse, ragazzi. Sono diverse. Ci sono delle... Delle note qua già assegnate. C'è... 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 yle sbesse. Ris fixes. No problem. Aaaaaaaa... Aspettate... com'era? Media Media Alta Bassa Media Vediamo un po' Quindi è media Media Alta Bassa Media Uh funziona No Ma cavolo Non mi ricordavo Che si chiamava Destina La melodia Si chiamava Destinazione Precedente Oh Quindi Cosa Facciamo Come facciamo A fargli finire Il controllo Cioè ci deve essere Una maniera Perché il casco Non ce lo fa più usare Mi sa che abbiamo Finito con loro Perché lui qua Non sta facendo niente Con lei Ho già parlato E qui non possiamo Far praticamente nulla Niente Mi sa che devo Per forza usare lui Il discorso Mi fa dire le stesse cose Di prima Cesare Il discorso è che Non abbiamo capito Come riparare questo robot Ci manca qualcosa Qua Con lei Non possiamo più uscire Dalla stanza E non possiamo usare L'elmo Quella Blanket Buonasera Ben arrivato Qua ragazzi Questo non ci fa Far nulla Con questo Non ci fa Far nulla Qua non ci fa Andare Lo spartito L'abbiamo visto Questi non ce li fa Usare Questo Che cos'è Ma Quella Seba Buonasera Ben arrivato Non mi ha detto Nulla Berry Forse Se 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 Ah Cavolo Ho Sbagliato Come state Ragazzi Come vanno Le cose Tutto Bene Non lo posso Prendere Lo spartito Dal Dal Muro Veri A Ok 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 Sono quei simboli Del robottino Sono i simboli Del robottino Eccolo là Questi Eeeh Grande Manu Sono un po' Invidioso Quindi Dobbiamo solo capire Aspettate Fatemi disegnare Fatemi disegnare Ok Poi ci sono Così Ok E poi c'è Questo Così Perfetto Della double fine Tipo Allora Non ne abbiamo Azzeccato Neanche uno Ragazzi E questo E' Qualcosa di Buono Ma se io Metto solo Un cavo Posso capire Allora Proviamo a mettere Solo un cavo E cerchiamo Un attimo Di capire Tipo Se io metto Questo così E poi Infilo il robottino Mi dice che cavo ho messo Ok Mi dice che cavo ho messo Questo è sbagliato Quindi Allora Questo Così Ah Sì Day of the tentacle L'ho giocato E anche The cave Molto belli E E poi I vecchi giochi Della Lucas No Brutal legend No No L'avevo giocato All'epoca Ma non mi ha mai fatto Impazzire A meno che non vanno visti Al contrario Saranno visti Al contrario No Non penso Eh Non ne ho trovato Neanche uno Giusto Lo conosco Lo conosco Lo conosco Brutal legend E quello fa doppiato Da Jack Black Tu dici che il primo punto Che attacco È il primo simbolo Vediamo un attimo Ok Mi sa che hai ragione Veri Quindi abbiamo Aspetta Quindi abbiamo Sopra Questi A lato Questo Mi sa che lo possiamo Vedere Li possiamo vedere Tutti Con un giro Ok Poi abbiamo Poi abbiamo Questo Qua sotto Questo Qua sotto Questo Qua E quest'altro Qua Quindi Noi dobbiamo Formare Ho disegnato un po' A cavolo Eh ragazzi Vi avviso Però Dovrebbe funzionare Quindi noi dobbiamo fare Questo Con Questo Poi dobbiamo fare Questo Con Questo E Questo Con questo Andavano tutti Dritti Ma dai Davvero Assolutamente No Cavolo Ah perché mi sa che le ho invertiti Tutti Vero No Cavolo Aspettate C'è qualcosa Che non mi torna Le ho fatti Malissimo Allora Il primo Dovrebbe essere Così Quindi dovrebbe essere Questo Con questo E dovrebbe uscire Aspettate Scusate No Sì Scusate Ma il primo Non era C'è qualcosa Che non mi torna Il Li ho Li ho solamente Spostati Cioè Me ne son Dimenticato Mi son Dimenticato Di disegnarne Uno Mi sa Mi sa che mi ero Dimenticato Di disegnarne Uno Ok Dovrebbe andare bene Lo stesso Dovrebbe andare bene Lo stesso Poi abbiamo Questo E questo Giusto No No Mi sa che ho fatto Casino Di disegnarli Ok Niente panico Ragazzi Niente panico Ci sono 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 Ragazzi Ci sono Non temete È tutto Sotto Controllo Fidatevi Di me Visto Visto Che era tutto Sotto Controllo Voi Non ci Volate Credere Io ho detto Che era tutto Sotto Controllo No Abbiamo tutto Ah Perché mi sa Che glielo devo dare Me lo son messo In tasca Vero Sì Eeeh Siamo insieme. Allora, questo significa che questo avviso è pronto per volare a Laruna. E come voi voi? Sono pronto. Andiamo. Ok, ora andiamo. Perchare. Tu non fai andare a qualsiasi. Chi sei voi? Veli Spamaro. Abbiamo parlato con le persone. E abbiamo collegato alcuni. Quando Mab Chawthra e la mia sorella, l'abbiamo a cuore. Por favor, diciamo dove è la mia figlia. La mia figlia è. Si... Si è venuto a la mia figlia. Abbiamo tutti i nostri spettatori. Chi siamo? Si sembra di tutti. Si, io ho già avuto l'initazione. Ma... Buongiorno a tutti. Sono una amica di voi. E io sono una amica di vostra. Ha, 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 ha! Noi... 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 che stai lasciando il船 guarda, ci si è andato è tutto il resto pronto? ho bacato il caccio e lo mettiamo nel oven bravo, allora andiamo fuori grazie per ottenere la mia ricerca era fantastico sarai sopravvissuto secondo voi? ho scopri ho scopri ho scopri non posso credere che funziona posso No, non mi dire che stanno in rotta di collisione C'è qualcosa che mi dice che ci siamo arrivati Wow Quindi, cosa facciamo adesso? Un pochino o qualcosa? C'è tempo per vedere se il sistema di comunicazione ancora funziona Ciao, ahoy! 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 Non credo che ci sia... Oh, non so... Guardate quello Si Oh, aspettate un po' C'è quello? Poi, è quello? E' quello... E' il nostro navio Doviste la mamma è in porto? Segui! Tu asciugati! Hey, siamo tutti in autopilota Ma guarda, da che siamo così vicini Io avrò la nostra gamba e tu puoi usare per dire noi C'è troppo lungo Cosa? 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 Woh! Quella! Cosa? Ci usi! Cosa? 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 Facciamo qualcosa? Ok, tutti stai tranquillamente, ho bisogno di pensare. Hey, credo che il船... credo che è appena a mio amico Alex. Non credo che si è arrivato a quella cosa. Non sta andando bene a Gallagher. Now, once the path is woven, the ship follows only the thread. It's out of my control. We are going to get blown to bits. Surely the ship's shields will protect us. Well, that's hard to say. Ships and shields, ships and shields. We have no ship's shields. We threw the fusion or about the trash chute. Excuse me? Why can't protocol calls for the disposal of Alam? Non c'è protocollo per questa situazione. Questo non c'è territorio qui, ok? Mi advice è di sentire e divertire il trip. Io solo chiede a te stare un po' di città o meno di un po' di più o meno, solo per un po' di più. Soprattutto se fosse in mea, capitano. Quella di navigazione o snobbligo è il risultato. Io ho dovuto andare da là e ti esplodere. Tu puoi unirà me in un sguardo, ma non cambierà il corso che ci sono. Possiamo provare a tagliarla Sì, sì, è in il nostro modo Che è stato nel Shell Mound quando io lo vedo Se ha incontrato Alex, potrebbe essere molto bene E magari il tuo figlio Se qualcuno di noi vogliamo fuori da qui Abbiamo bisogno di fuori da questa città Non puoi andare da qui? Il Spacewaver ha controllo della città mentre ha eseguitato il passaggio È così via il libro che non dovrà evitare da lui passaggio Non anche per andare all'interno di quel船. Hai pensato che il altro船 ha il problema di navigazione? Probabilmente. Oh, questo è vero. Non possiamo solo percibare loro fuori? Stiamo cercando, ma così sono. Mogjam. Magari che devi andare fuori di quel船. È me che vogliono. Hai pensato che mi lasciano andare fuori ora? Ho visto troppo. E non vengo a andare a andare. Ciao. Ok, la stessa. Ok. Ok. Ok, vai andare ora. Ok. Non so se prendi la cosa. Ok. 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 Vediamo un po' se riusciamo a tagliare la tela o a fare qualcos'altro Ops Ok Ma sono astronavi, non lo possono fare Ma sono astronavi, non lo possono fare Non ci sono sempre passi, non ci hai Ma non ci sono Non ci sono Strutture Non c'è business È profania in pieno Non ci ho visto che quella della Cura Ha, c'è E, stai Si, sta parlando Me senti Ma scusa, ci sono un protocollo di per te Abbiamo solo Oh Posso sparare con il raggio Posso sparare con il raggio mortale Non c'è nulla Non c'è nulla C'è quella... Vella... C'è un peccato che ci sarà giocato È già troppo pescato Ho dovuto chiedere il circuito in la sala di potenza Resto qui Ci sono alcune... C'è alcune... C'è alcune... C'è alcune... C'è alcune... Che possono essere... Forse ragazzi Ah cavolo qua è tutto chiuso Eh ma non funziona più niente là sotto Perché non c'è più il nucleo veri Questa si apre Vediamo un attimo Proviamo veri Questa è un tipo di videogame Questa è un luogo Questa è un luogo Non sembra che funzionare Questa è un luogo Questa è un luogo Se voglio ripare qualcosa Wow Marakai, dove sei? Cosa causata l'esplosione? Oh, scusate Non c'è un numero C'è un luogo 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 and let us go why do you pretend these ships are in space several of our first parent teams witnessing the badlands succumb to their pole and settle there forever obviously the frightening visions drove the mad so now we protect them what do you need me for to true the formation in our bloodline hmm is true in the formation as creepy as it sounds we nurture and discipline our bloodline for hundreds of years removing impurities and built the plague down to keep them out forever unfortunately it turns out that some of those impurities were necessary so as we have become refined we've also become somewhat delicate we are a house made out of fine crystal but we still need rocks and clay foundation that's where you come in so you just need a blood sample for me or something oh this isn't a simple matter of chromosomes those we could synthesize we need the whole picture your environment your psyche your very being our processing extracts it all oh sounds like you want to put me in a blender the rendering process ends your short first life but grants you immortality ah see no rose why did you use the boy because even our wisest bloodline ministers cannot discern the precise combination of impurities that will make us whole but at a certain age a young man when raised outside of laruna has instincts for these things adventure heroism conquest his youthful lusts are sacred to us i knew i was going to regret talking to you so what will happen to shay he was going to return to maruna and be celebrated as a hero for the rest of his life but when you downed his ship you sealed his fate now he has seen too much your system is gross one-sided and it hurts people and you don't even need it tear down this plague dam and build a bridge over this gorge let people interact in a natural way i would think you charmingly naive if what you were saying wasn't so horrific wow haha if you're so weak and fragile maybe we should just rise up and get rid of you oh haha we talked that fight right out of you long ago isn't that right ze lavina come on ma rrr lavina tradimento tradimento i need to go and your entire way of doing things inganno 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 e tradimento inganno e tradimento inganno e tradimento vendetta extFI mes ma come si permette allora ok abbiamo un cavo inganno e crei aji this one is not opening either era quella è che si fingeva la nonna a di bella apparentemente si fingeva la nonna di bella Che ci faccio con il cavo Un cavo Un cavo Perché queste non le riusciamo comunque ad aprire L'unica cosa che possiamo fare Possiamo anche Allora vediamo un attimo se con lui riusciamo a fare qualcosa Ragazzi Loro dovrebbero avere gli scudi però Hmm Ma che... ma questi due sono fortissimi Ma... Possiamo scendere giù però questa volta Oh oh Ok Wow Ok Allora Musica e corrente Ok Possiamo rimodificare il robottino Wow It's a music Morg Mmm Mi sa che dobbiamo rimodificare il robottino ragazzi Andiamo a vedere da quest'altra parte Oh 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 Ahm Oh! Ok! Ah, è vero! Hmm... Dove potrei andare per avere una visuale migliore? Vogliamo provare a ritornare su? Bell'idea, Yvonne! Contrulls set to manual. Must have been flipped by the incoming fire. What's next? Ok! Hmm... Rats! My mom must have set the boom arms back to centralize control. Hmm... Hello? Hello? Ah, hi? Ma mi serve Non posso parlare con lei Dai mi serve Dannazione Come faccio a modificarlo Se non si vuole muovere No aspettate Aha Ok Perfetto Ok 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 Però devo riandare a vedere Devo riandare a vedere i cavi Cioè il collegamento di sotto Allora Ci siamo ci siamo ci siamo ragazzi Ci siamo Ok quindi Così 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 Ok Perfetto Perfetto Credo Allora Vediamo Allora Se noi facciamo Questo Questo E questo No Mi serve però un posto Per Cioè Mi servirebbe un posto Per provarlo Però Così Non so come provarlo Dai come faccio a provarlo così Ci deve essere un posto dove si può provare Da qualche parte Da qualche parte No We'll melt down too So what The rule would be better off without these moms I'm sure we'd get off ok But what if it's Shay who's controlling the arms Shay would never do anything that reckless If there's one thing I've taught that boy over the years It's the importance of safety Dovrebbe esserci un posto anche qua per Per mettere questo robottino e far vedere che cosa stiamo facendo No O dobbiamo forse Forse dobbiamo semplicemente Aspettate Fatemi provare a fare una cosa Io faccio semplicemente così Perché I simboli praticamente si ripetono Quindi non vorrei No Not there Other end goes here Voglio vedere se c'è qualche Se dà qualche segnale che uno dei due è messo bene Non c'è qualche segnale che uno dei due è messo bene Non c'è qualche cosa Lo dà qualche segnale che uno dei due è sempre Non c'è qualche segnale che uno dei due è messo anche Vediamo un attimo. Ah. No. Hmm. Andiamo a controllare Cesare. Vediamo subito. Come faccia? O lo dobbiamo passare dall'altra parte. Perché apparentemente solo lui ha il metodo per ricaricare questi robot. E noi qua non abbiamo nulla per ricaricarli. O mi sono perso qualcosa. O c'è qualche parte dove li possiamo ricaricare. Ma non mi sembra. Cioè non mi sembra ci sia un generatore come sull'altra nave. No. E qua neanche. Come facciamo a capire quali sono... Aspettate. Non ci posso arrivare Cesare. Ci sono le porte bloccate. Purtroppo ci sono le porte bloccate. Forse c'è qualcos'altro sul libro. C'è qualcos'altro sul libro. C'è qualcos'altro sul libro. Credo che se ho prenduto questo libro. Si può disinnegrare. Chi la potrebbe Saper riparare Alex Proviamo provare Possiamo usare questo per contatto con qualcuno in La Runa Rattori Sì? Mi sento che non sono impresti con l'elettronica Hey, piccolo Hexapalp Hai ancora un'elettrico geniose dentro da qui? Scusate, ora è tutto il ritmo Hey! Beh, guarda questo Il tempo deve essere diventato in un livello più profondo E è già finito Adesso, vorrei venire con me Uh, ok, ok, ok L'abbiamo preso Se ci metto la radio Vediamo un po' Ok Questo lo possiamo modificare? Lo possiamo modificare Però Se ricordo bene Lui non ha Alcune movenze Cioè, lui ha alcuni simboli Mi sa che non ce l'ha Cioè, non mi sembra di aver visto Proviamo No Cavolo Svegliato Vediamo un attimo Aspettate eh Vediamo un attimo Hmm 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 Quindi Ok Vediamo un attimo Se riusciamo Ok Ok No, forse lì a tutti Ok Ok Lo voglio far diventare il robot ballerino Ok Che dovrebbe essere Questo Con Questo Questo Con Questo Questo E Questo Con Questo Vediamo se siamo riusciti a trasformarlo nel robot musicista Ci sta No No Ma assolutamente no Cavolo Eppure pensavo Quello è giusto Sono opposti Mi sa che sono Ah Forse ho capito Forse ho capito Però è strano Perché il Primo Sembrava giusto Cioè Il primo dovrebbe essere questo Con questo No Non capisco perché mi segna Questi due qua sotto Perché non erano così quando abbiamo fatto la prova dei cavi È strano ragazzi Cioè Non capisco Cioè Il primo è giusto ma Lo riesco a capire perché me lo Me lo cambia Ok Questo è giusto ma lo volevo far diventare musicista Gli altri sono musicisti E poi non mi ricordo neanche qual era il pattern da ballerino Forse lo può rifare lei Il pattern da ballerino era tipo Così Però Però non Non so quali sono Il verso giusto Cioè Ci potremmo stare le ore a trovare quello da ballerino Secondo Secondo me Dobbiamo farlo diventare Il Però adesso non mi ricordo come l'avevo fatto Così Ok Questo è il primo Poi Quindi ci serve Il secondo Che sicuramente dovrebbe essere questo E questo No No quasi Anche secondo me Beh Dobbiamo farlo musicista Perché quelli erano tutti musicisti Poi quello da ballerino non me lo ricordo proprio Ok Questo è giusto Ci manca l'ultimo Ci manca l'ultimo Che dovrebbe essere così E così E così No Perché no? Sono invertiti Ah ok Sono semplicemente invertiti Questo Qua Qua Ok Eeeh Ok Ok Oh Ma Ma Hey What did I thought we were friends now I guess it's just my little hexapally like Not me Mmm Con loro non abbiamo ancora trovato una maniera Oh Oh Hey Aha Well That looks right at least He's actually pretty good I think I'll let him play for a while Ok 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 Ci siamo Ma Ma Hey This switch is just an old drum now I hope the engine is not just an old tuba Vogliamo provare ad andare a suonare Hey That thing is still pretty loud Mmm Cosa ci possiamo fare con il cartello? Oh I'll clean up the instruments after I'm done with them I don't want to lose my mallet in there Mmm Need any more tools up there? Oh no thanks son The only tools I need are my special hull patch This big spoon and nerves of steel of course Ok pops Che ci facciamo con il martello ragazzi? Hello They're so hot and brittle They probably shatter And I don't see any reason to do that Mmm They're so hot and brittle They probably shatter And I don't Hey Alex Not now Shag I need to get through to someone Who can get us out of this mess Martello Hello Can you hear me? Mmm Mmm Che ci facciamo con il martello dentro questo Wow It's so amazing to be talking to a person finally At least now I have a weapon Yeah Sulla nota vicino Alla sagoma del martello? Pensavo fosse insieme all'oggetto Oh Ah no son separate Hai ragione It says Alexander honey If you always put your drum mallet back where it goes You'll always know where it is Should have listened to your mother Alex Um I'll clean up the instruments after I'm done Yeah that's enough heart music for now Wow They really like my little hexapel Si sono arrabbiati Ok Ok Ma mi seguono dovunque vada Possiamo dare il martello Possiamo dare il martello No Aha Ok Ok Vediamo un po' Hmm It's not a very loud way to play the drums But maybe it's a jazz thing Hmm Ok Ok Come lo facciamo a far diventare batterista però? Ci deve essere un modo per farlo diventare batterista Ci deve essere un modo per farlo diventare batterista Ah Ci serve qualche altro indizio ragazzi Perché gli abbiamo dato il martello ma lui ovviamente il martello non lo so E' buona perché non è un E se lo mettiamo sull'arpa rompe l'arpa? Yeah, tickle those strings He's actually pretty good I think I'll let him play for a while Uhm Yeah, that's enough heart music for now Come facciamo a farlo diventare... Batterista? Cioè... Che batterista vabbè Hello? Is she... Trying to hug an invisible friend or something? I think playing a harp is more likely Your interpretation says a lot about you Ah 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 Oh forse lo dobbiamo far di... Ritornare ballerino Però non mi ricordo qual è la... La... La combinazione Cioè... Sembra fosse tipo... Così Così Cioè... Cioè ricordo che era... Il triangolo era fatto da quel lato, no? Mi sbaglio? Era da questo lato, giusto? Era tipo così No No? Che così... A... A ritrovarlo è un macello, ragazzi Cioè se... Se non c'è scritto da nessuna parte A ritrovarlo è un macello Hmm Hmm Cioè come facciamo? Cioè io ricordo vagamente... Perché... Perché non riesco a suonare... Mi serve qualcosa che faccia oscillare il martello, presumo Però... Lei non me lo ridice Tu ricordavi le tre... Tu ricordavi tre separate? Eh... Eh... Non lo so, Viven Il secondo a sinistra dal basso? Cioè... Beh... Deve parlare con il superviore? Cioè... 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 È un progetto Cioè... No Cevolo me lo sarei dovuto segnare però Cioè anche lei non Cioè anche lui non glielo richiede Cioè non c'è maniera di farcelo dire Cioè non c'è neanche un elenco Sotto è possibile che non c'è uno ballerino Eh ragazzi Cioè se effettivamente è così Sarà un vero macello Oh Ottima idea Viven Ottima idea E il discorso è che Non ce l'aveva di suo Cioè abbiamo Prima era senza cavo Ah però forse si vedono Aspettate forse si vedono Forse si vedono Forse si vedono Sono queste più nere Forse è il contrario Da dove parte È quello più Chiaro Allora Cioè i cavi sono questi Ah cavolo Ok Come faccio Let me put that somewhere else Cioè Il discorso Ah forse Il problema è qual è il primo Sarà quello in altro Il primo Ok 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 Quindi com'era Allora Da qua A qua Da qua A qua E da qua A qua Perfetto Lo carichiamo al volo Vediamo Però anche quello che ballava Non era una brutta idea Secondo me Il discorso è che Non mi son segnato No Allora Nói 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 Ah, mentre lui sta litigando io posso andare a usare la radio? No No Ah, ho capito Posso sparare con lei Forse, credo No, cavolo E allora, cioè se, se Io l'ho fatto allontanare lui Ma se lui non mi fa No No Perché sei rimesso a suonare l'arpa? Perché sei rimesso a suonare l'arpa? Ma che cosa è successo? Ah 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 Non lo so che cosa è successo, Yven No, non ancora Ma Ma Cioè che cosa posso fare? Cioè Lei non lo spara il raggio Qua dentro non mi fa fare niente Eh ma non so come Riabilitarlo Esatto Perché era da quella che lanciava il raggio Solo che E qua non c'è niente da fare Ah Aspettate C'è una strada qua dietro Ma chi l'aveva vista? Ma Ok Quindi adesso se passiamo a lei Ok andiamo di qua E chi l'aveva visto Il La parte dietro Ma Ma Lui non stava togliendo C'è qualcosa che ci manca Ragazzi Ah Ho capito La devo prima accendere E poi far scendere giù Alex Dovevo fare la cosa inversa Ragazzi Perché adesso C'è lui che sta suonando l'arpa Perché l'ha rimodificato Dovevo fare la cosa inversa Adesso dovrebbe andare Ok Adesso scende lui Adesso cambiamo con lei E spariamo Perfetto Adesso Looks like that old ship is having some sort of radiation meltdown. Spaceweaver, evasive action. I told you, Captain. I cannot double ride the path once. If we're touching that ship when it melts down, we'll melt down too. Are you telling me that the Model 6X doesn't even have the basic self-preservation and hazardous object avoidance capability of a Series 4? Oh, sure. bess narco. Backing up. Oh Forse dovrei spegnerlo Forse dovrei spegnerlo adesso Oh forse no Hmm Forse Dobbiamo andare a parlare Con lei Però adesso stiamo staccati O stiamo di nuovo attaccati Mi sa che dobbiamo rifare tutto Allora Cavolo Riscendiamo Riandiamo Riattiviamo Il problema è che La madre Non ve li fari agganciare Secondo me Comunque si è così Ok Perfetto Ok Loro tornano indietro Ma lei non sta parlando con Alex No No Perché mi sa che la madre Non sta parlando con Alex Come facciamo A riattivarli No 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 Ahahahahha Ahahahahha Forse però Posso far qualcosa da qua sotto No Neanche da questo computer Ah come facciamo A riattivarli Come la distraiamo lei Lui abbiamo scoperto come distrarlo Ma lei come la distraiamo No Aspettate un attimo Se gli mettiamo quello dell'arpa Potrebbe funzionare a qualcosa Era il triangolo così Ok Che dite O potrebbe funzionare a qualcosa Mettergli quello dell'arpa Beh non mi ricordo L'ordine Ah ok Wow Fortuna Non c'è Non c'è un protocollo per la situazione Non c'è un territorio Non c'è un territorio Non c'è un territorio Come possiamo Come possiamo Dove possiamo Sulla tela? Ma che fa sulla tela? Dobbiamo provare sulla tela No c'è un territorio Ok Quindi Questo l'abbiamo fatto No, svegliato Ora Disattiviamo Ok Quindi adesso Cambiamo Si può fare anche da qua? Ok Cambiamo su lui Ok Andiamo giù Ah no Prima di scendere giù La devo fare abbracciare O li faccio abbracciare dopo? No, facciamoli abbracciare subito Ok Perfetto Perfetto Dai dai Ce l'abbiamo fatta ragazzi No No Era la sequenza sbagliata Dannazione Era la sequenza sbagliata ragazzi Eh ma questa è solo una questione Di beccare la sequenza giusta Alla fine Allora Andiamo a disattivare Quindi Rimettiamo la corrente Ok Torniamo nella sala Ma non Ok Ora Cambiamo Ok Allora Riprendiamo Rimodifichiamo Oh mio dio Come l'avevo fatto? Era Così Così E Così Ok Ora Andiamo qua Andiamo qua Scendiamo giù Mettiamo Il robottino Ok Stadiamo su Andiamo Disattiviamo Disattiviamo Ok E cambiamo È un po' una scocciatura È un po' una scocciatura Effettivamente Quindi questo era Così Così E così Direi di sì Ok Lui lo piazziamo Qua Perfetto Adesso Sadiamo su Li facciamo Abbracciare E spariamo Il raggio Della morte Gary Come in Gary It's grabbing time again Ok Ora si abbracciano Ora cambiamo Su Bella E spariamo Oh cavolo Però se mi sposto È la fine No Lei è ancora distratta Ok 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 Pensavo resettasse Tutto un'altra volta E Finalmente Adesso Il пог�io È state È stato presto Il messaggio si è iniziato Tutto La scocciatura ha inclinato Tutto 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 C'è un pollo e ci sta portando con noi! Qui qui! Tu devi andare! C'è tu. Ma... ...doss'abbio che era ancora vivo. I thought you were a baker Yeah, I can do that too Che Mom Jackson Quando c'è arrivare vai Wow che saltatore Gary 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 Nooo Gary 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 vero ciccati il ponte a costo della vita di Gary carino mi è piaciuto tantissimo la parte finale è un po' scocciante con tutti quei cavi queste sono cose che praticamente vanno quasi a memoria per me non mi è piaciuto molto il discorso della sequenza di doverlo fare con una sequenza esatta però è molto molto carino non poteva essere dimenticato che eri ah lo faceva in l'Asia Wood cioè pensate ah 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 Curtis aveva ragione Will Wheaton viven ah Harmony lo faceva Jack Black no scusa Harmony ah 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 oh c'è 3D Hyper Crypt però non ci hanno fatto giocare a 3D Hyper Crypt volevo vedere se riuscivo a battere il record molto Luca molto ci sono alcune parti che ho trovato un po' meh eh tipo quella del nodo cioè io la sarei andato diretto però effettivamente dopo un po' forse doveva venire naturale andare a cercare aiuto da qualche parte però io essendo un briegone ah 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 oramai mi ero fissato e e questa parte finale che doveva essere fatta proprio in una certa sequenza non cioè preferivo facevi una cosa restava distratto e pensavi al resto piuttosto il fatto che tornava indietro e via dicendo però ci sta dai molto carino molto molto carino la storia mi è piaciuta l'ho trovata simpatica mi è piaciuta di più la prima parte che la seconda questo si alla fine ci ha pescato un pesce con quell'amo ah 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 oh guardate c'è l'exa bot fuori che stava pulendo le finestre eeeh no gliel'hanno fatta la statua a Gary no ci voleva la statua di Gary dai devono far la statua a Gary no ci voleva la statua a Gary no è vero sicuramente la prima parte è più semplice della seconda e me lo ricordavo il fatto che erano stati rilasciati a distanza di tempo parte 1 e parte 2 però divertente comunque sia molto 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 divertente io ho detto gli unici che non mi sono piaciuti è questa proprio parte alla fine 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 eeeh quella del nodo quelle sono le uniche due cose che non mi sono piaciute il resto alcune cose le ho trovate veramente carine tipo quella del serpente con lui che dovevi aspettare perché lui era abituato agli abbracci cioè il serpente si era stancato l'ho trovata fortissima anche se si intuiva un po' la verso la fine della prima parte il fatto che lui fosse effettivamente all'interno del mostro mi è piaciuto comunque ecco la rivelazione carino ciao ciccati buonanotte poi ce l'avevo da tantissimo tempo questo gioco perché l'avevo andato con playstation plus tipo l'anno scorso due anni fa e dice l'avevo da tantissimo tempo ma non l'avevo mai giocato ma ho tantissimi giochi che non ho mai giocato perché alla fine si magari ho detto ah forse questo potrebbe essere un gioco carino però dat stream dai abbiamo quasi finito siamo arrivati alla S no ah sono messi oh mio dio ma vanno per vanno per nome non per cognome oh cavolo siamo ancora alla E? volevo vedere se c'era qualcosa dopo no non si può velocizzare? ah si 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 ok vabbè grazie ai baker velocizziamo ragazzi dove siamo arrivati? alla k oh mio dio ciao rago buonasera mi è da fastidio guardare lo schermo che scorre così velocemente stiamo alla S ok ok ah finisce proprio così non c'è niente dopo oh che peccato che peccato ha giocato viven gli è piaciuto tantissimo me l'aveva sempre detto gioca a dokami però è uno di quei giochi che quando mi dicono gioca ci dico ah si si è vero potrei fare dokami e poi il giorno dopo mi sono dimenticato comunque ragazzi per questa sera ci fermiamo qui domani sera molto probabilmente continueremo godend molto probabilmente se ci riesco domani mattina ci facciamo una bella partitona a monster hunter così parliamo anche delle cose che hanno presentato oggi ragazzi grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia grazie delle chiacchiere io vi auguro una buona notte e noi ci vediamo come al solito domani ciao 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 a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.